In una piazza grande, vivace, già gremita anche di tanti bambini, di tante scolaresche che vengono qui per vedere i ceri, finalmente l'attesa è quasi finita, mancano poche ore, i tre protagonisti, i tre capo dieci, li abbiamo sentiti nel corso dell'attesa, nel corso di diverse puntate, ma finalmente ce l'abbiamo qui insieme, a poche ore dalla festa che abbiamo tanto aspettato. La domanda è scontata. Che cosa rimane più da fare, Alessandro? Rimane da fare il più, rimane da fare la corsa, quindi siamo proiettati lì e daremo il massimo come sempre, come ogni 15 maggio tutti gli ogubini saranno pronti a rivivere dopo due anni questa festa bellissima. Fabio, l'abbiamo detto tante volte, un'attesa lunghissima, ma ormai l'attesa è proprio finita, non sembra vero di essere arrivati proprio a poche ore dalla corsa. Dove va il tuo pensiero? Sicuramente alla giornata del 15 maggio ormai, pensiamo che ormai sarà una festa bellissima, un'esplosione di gioia per l'intera città e il popolo egubino che ritroverà la sua festa, come giustamente deve essere, perché dopo tre anni è ora e sarà un'esplosione di gioia e torneremo a rendere omaggio al nostro patrono nella forma che preferiamo. Andrea, i ceri sono qui in posizione verticale e orizzontale, chiedo scusa ancora per poco. Fra poche ore uscirai da lì. Il pensiero? Il pensiero? Non lo so, vediamo quando si apre il portone, perché è una prospettiva che non l'ho mai vista, quindi sarà sicuramente una gioia immensa, ma sarà anche bello rivedere un'esplosione di colori, che la piazza sarà gremita con le camicie gialle, blu e nere, quindi non vediamo l'ora di affacciarci dal portone. Grazie a tutti.